Fretti in radio, sono Chiara Nicoletti dalla 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, sono con Fulvio Risoleo, Edoardo Pesce, regista e protagonista di Notte Fantasma in Orizzonti, benvenuti. Grazie, ciao. Guardavi i miei appunti? Sì, la scaletta. Allora, guardando il film, la prima cosa che mi viene da pensare, e chiedo a voi anche, sono un po' due solitudini che si incontrano. Sì. Per me erano due personaggi tormentati, però i tormenti ce ne sono migliaia e ogni giorno si trasformano, quindi ci sono i tormenti del diciassettenne, i tormenti del quarantenne e talvolta ci sono dei punti d'incontro e il film è costruito su questi punti d'incontro, quindi i tormenti che si incontrano. Che solitudine è quella? Beh, sì, il personaggio che interpreto io è abbastanza solo alla fine, perché poi Yotin, il personaggio di Tarek, alla fine poi inizia degli amici, quindi è abbastanza... invece questo poliziotto è, insomma, sociopatico, diciamo, quindi c'è una solitudine, fa un po' tenerezza poi dopo un certo punto del film, sembra che sia aggressivo all'inizio, che sia un po' autoritario, sadico, così, ma poi invece vediamo alla fine quello veramente fragile e deboli a lui, ecco, non il ragazzo. Infatti mi sembra anche un viaggio nella notte attraverso dei ruoli che vi scambiate un po', all'inizio sembra carnefice e vittima, poi diventati amici, poi siete padre e figlio, ecco, un percorso, non so come l'avete costruito attorialmente, ecco, e invece su sceneggiatura. Certo, sono partito da una scrittura, diciamo, che doveva essere concatenata scena dopo scena, che doveva, diciamo, i personaggi si trasformavano, però non si trasformavano in una maniera per cui c'era una sorta di crescita morale, cioè una sorta di trasformazione labirintica, quindi a volte a destra, a sinistra, al centro, però comunque sono sempre un po' persi, quindi questa base, diciamo, di struttura labirintica, ma tutta costruita in una notte, era un po' l'idea di sceneggiatura e poi con Edoardo l'abbiamo reso realistico tutto ciò. Doveva essere realistico? Lo chiedo a entrambi, anche perché Fulvio è famoso per non essere per forza attaccato alla realtà come realtà, in senso... Diciamo, io ho lavorato già con Fulvio, lui comunque ha una sua cifra stilistica, autoriale del suo, quindi ha una sua visione, infatti io poi alla fine i film non vedo mai le scene lì sul set, perché poi mi piace poi dopo vedere il film, perché mi piace lui, quindi lo vedo da spettatore, ecco, poi... però sì, abbiamo fatto... è quello più naturale di film di Fulvio, diciamo, dei tre, che hai fatto, ha compresi anche cortometraggio su tutti un pochino più particolari e quindi... comunque ha una sua atmosfera un po' sospesa, un po' onirica, così posso dire, quindi noi la recitazione abbiamo fatto dei dialoghi reali, cercando di farli molto colloquiali, così, insomma, realistici il più possibile, proprio per mantenere, insomma, una naturalezza e per agganciare un po' lo spettatore alla storia. Perché Notte Fantasma? Non lo so... Beh, diciamo che quello che mi piace di Roma è che è una città confusionaria e complessa di giorno e di notte è abbastanza vuota e quindi, per forza di cosa, è una città di più di duemila anni, vuota, non può che essere abitata dai fantasmi e quindi un film di notte è un film pieno di fantasmi. Anche se da romana acquisita invece voi lo siete di nascita, credo se non sbaglio, ci sono quei quartieri di Roma che viaggiate nel film e in realtà poi sono quelli più popolate anche di notte rispetto ad altri che proprio muoiono, tra virgolette, non so se dico una cosa da napoletana che vive a Roma. L'itinerario è, diciamo, si parte da Pigneto, si continua per termini, si finisce in centro, è un itinerario, diciamo, che doveva raccontare uno spaccato ampio di Roma, cioè ci sono vari quartieri anche molto diversi tra loro e in un'unica notte doveva uscire anche alcuni lati e anche, cioè, fin parte... Poi è neorealista come percorso, Pasolignano, Mandrione, Pigneto, c'è... Perché sono dei posti più cinematografici di Roma. Sì, infatti è per un omaggio a questi posti, poi lui li descrive in maniera particolare da alcuni punti di vista che sono anche insoliti, poi il Piazza Vittorio, cioè... C'è anche l'Isola Tiberina dove soltanto c'è il cinema d'estate, è un po'... Sì, l'isola è bella perché c'è quella cascata che raramente, cioè non ho mai visto al cinema, devo dire, mi è sempre sembrato assurdo perché uno dei posti più affascinanti di Roma è questa piccola cascatella e quindi è molto violenta, lì l'acqua, lì è molto ispirante, quindi noi abbiamo deciso di farci una scena importante proprio in quella cascata. Un'ultima cosa, cosa vi aspettate da questa esperienza qui a Venezia e com'è andata fino adesso? Io sono arrivato ieri pomeriggio. E cosa ti aspettavi da questo film qui a Venezia? Grazie. Non lo so, perché ancora la potevano mandare, quindi cosa ci aspettavi, ma che... Cioè, comunque io sono contento di vedere il film con la sala piena... È strano che si aspetta questa proiezione di oggi, anzi questa che è in corso dei giornalisti, quindi c'è una giornata che domani... Io più per il pubblico, i giornalisti poi... Oh no, sono d'accordo. Sono curioso, diciamo, dell'atmosfera di stasera magari in sala, che poi alla fine... Diciamo che è anche raro ormai vedere un po' la sala piena, così, quindi bisogna andare ai festival per vedere la sala piena, quindi ben venga. Speriamo non sia sempre così. E allora, in bocca al lupo, Rubio Risuleo, Edoardo Fesce, per Notte Fantasma e in Orizzonti, alla 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider.